buongiorno carissimi buona e santa solennità di san giuseppe a tutti quanti voi e lo sposo della beata vergine maria che oggi prende tutta la nostra attenzione la silenzio di giuseppe che non lo sentiamo per nessun motivo parlare durante il corso della lettura dei vangeli tant'è vero come nel vangelo di luca abbiamo l'annunciazione a maria nel vangelo di matteo abbiamo l'annunciazione a giuseppe che nel sonno viene ecco avvolto dalla voce dell'angelo che gli dice di non temere anche lui sì sì figlio di davide giuseppe non temere di prendere con te maria tua sposa infatti il bambino che è generato in lei viene dallo spirito santo ella dalla luce un figlio e tu lo chiamerai gesù e gli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati giuseppe che è padre adottivo di gesù padre reputativo nel censimento che dovrà fare verso betlemme ecco indicherà proprio la paternità l'appartenenza di un giuseppe che se ne prende cura come fa un padre nei confronti di un figlio la cura nella protezione la cura nella crescita nella cura anche non soltanto della crescita umana ma anche quella spirituale gesù verrà portato nel tempio di gerusalemme dove a 12 anni rimarrà a addirittura con i dottori della legge è un giuseppe che in strada anche il figlio nell'arte del falegname come lui lo era una trasmissione una trasmissione che è fatta di condivisione concretamente un padre condivide con il figlio non soltanto gli ambienti ma soprattutto il suo cuore e quindi la sua esperienza di vita giuseppe fa così nei confronti di gesù e allora è lui quell'anello di congiunzione la profezia che ascoltiamo nella seconda nel secondo libro di samuele come prima lettura e con la profezia che viene fatta da nata na davide e prefigurazione ecco della volontaria messia sicuramente di un regno che non verrà a accessare sarà saldo ma è vero che giuseppe è quell'anello di congiunzione è lui che dovrà ecco dare la discendenza a gesù della stirpe davidica e giuseppe che nel suo buon cuore viene viene preso e viene supportato aiutato giuseppe è padre sì ma soprattutto è figlio è figlio di dio viene consolato dal signore viene avvolto dalla sua premura e lui ricevendo questo riesce anche a darlo l'amore di dio che riceviamo perché figlio è quell'amore che riusciamo anche a dare agli altri la pazienza che riceviamo da dio nostri confronti quella pazienza che riusciamo a donare agli altri con l'esperienza che viviamo un'esperienza che riusciamo anche a condividere e giuseppe è così è custode custode della santa famiglia custode che protegge così dovrà andare in egitto per poter difendere il bambino dalla cattiveria di erode ma oggi giuseppe anche il custode della chiesa e vogliamo pregare per la chiesa noi per tutti quanti noi non soltanto la chiesa quella gerarchica assolutamente siamo noi tutti parte della chiesa che san giuseppe ci aiuti a crescere da figli a non aver timore come è successo anche per lui ma lasciarsi guidare e in questa storia che certe volte più grande di noi come lo era per giuseppe allora in questa in questo cammino in questa guida che vogliamo anche noi intraprendere sappiamo che abbiamo a fianco giuseppe avrà gesù che crescerà e aiuterà anche il padre ad accettare che il figlio deve fare la volontà del padre che è nei cieli così come ciascuno di noi è chiamato a riconoscere ecco la strada della felicità che dio ha pensato per noi così come tutti i papà del mondo sono chiamati a non imprigionare i figli nei propri desideri ma suscitare nel loro cuore la risposta una chiamata molto più grande che per la loro felicità che quella vera quella che dio ha pensato per loro e quindi la preghiera che diventa necessaria e quindi mettersi proprio nel solco della grazia beato chi abita nella tua casa signore senza fine canta le tue lodi così come anche la lettura di san paolo apostole romani e abramo credette saldo nella speranza contro ogni speranza e la fede di abramo la possiamo ecco attaccare alla fede ecco applicare alla fede di giuseppe e allora auguriamoci tutti di poter vivere il nostro la nostra esistenza terrena pensando a quella custodia grande che il signore ha per ciascuno di noi un abbraccio fraterno a tutti quanti voi un augurio di buono nomastico a tutti coloro che portano il nome giuseppe con tutti i suoi derivati ma nello stesso tempo auguri a tutti i papà perché possono essere papà secondo il cuore di dio un abbraccio e ci vediamo domani per il nostro appuntamento